Ufficialmente la stagione balneare 2018 si apre venerdì prossimo primo giugno ed i bagnanti che affittano ogni anno l'ombrellone da domenica avrebbero il desiderio di stare in spiaggia nel loro solito posto. Ma nonostante i ripetuti appelli, telefonate su telefonate, i tecnici del comune, per i bagni Gabriele e Maurizio non c'è speranza, due o tre file al massimo per poter accontentare i clienti più assidui ma fino allo scalone, dopodiché c'è il nulla. Avrebbero dovuto vedersi le ruspe stamattina come ci avevano promesso ci dicono entrambi i gestori ma nulla, non si vede nessuno e nessuno ci fa sapere niente e noi siamo qui con i paletti ancora catastati. Sì, manca pochissimo praticamente neanche una settimana e ancora per esempio a noi ci mancano cinque file da piantare e stiamo aspettando ancora la ghiaia e il ripascimento che ci avevano promesso comunque di fare a breve tempo. Il rischio è che il primo sia per la stagione ufficiale e voi ancora avete le ruspe sulla spiaggia? Sicuramente sarà così comunque perché il lavoro non dura una giornata, sicuramente ci vorranno cinque o sei giorni se non una settimana quindi noi saremo qui all'inizio della stagione ufficiale senza ancora aver messo tutte le file quindi i bagnanti saranno in attesa e impazienti comunque del loro ombrellone. Oramai l'apertura è compromessa ci dice Gabriele che armeggia con fare sconsolato nelle strutture del suo lido. Prima che tutto si mette in piano e arrivano i camion e le ruspe la compagnia bella passa un'altra settimana e noi dobbiamo mettere su ancora cinque file di ombrelloni. Se ne parla tra due settimane buone quindi se tutto va bene. Lo sapevano da tempo di questa situazione in comune ci ribadisce Iride Gabbianelli senza arrivare a questo punto. Se ne hanno avuto di contrattempi e di difficoltà per la fornitura del materiale la situazione però era già nota e con la regione ci si poveva muovere da tempo per ottenere le debite autorizzazioni. Fonti interne all'amministrazione da noi interpellate ci fanno sapere che tutto è pronto che le analisi aggiuntive richieste dalla regione Marche sono state inviate che il materiale necessario è stato reperito come anche la ditta che eseguirà il lavoro. Si attende solo l'ok dalla regione come anche l'autorizzazione ad operare in deroga sulla renile a stagione avviata. Ma ora ci chiediamo perché a Pesaro si sta operando per il ripascimento con le macchine tranquillamente che vanno su e giù sulla renile mentre a Fano no? Perché ancora non è arrivata dalla regione la deroga ad operare a stagione avviata? Forse due pesi e due misure per Fano e Pesaro?